Sì, anche se ci siamo andati vicino in altre circostanze, per oggi penso che l'abbiamo strameritata e qua devo solo fare complimenti ai ragazzi. Oggi hanno fatto una dimostrazione di grande attaccamento alla società e questa vittoria l'hanno solo meritata loro. Non c'è nessuno che merita più di loro questa vittoria perché hanno dato il 100%, forse un'unica cosa negativa, le tante occasioni che abbiamo avuto. Loro da parte del BIA non ho visto nessuna occasione, però lo si sa l'1-0, non è mai sicuro, qualche palla sporca con Morello e Pimenta poterono anche far male. Però bravissimi ancora e questo ci dà un'iniezione di fiducia per la partita contro Lausanna domenica. Abbiamo domenica, a parte quelle, tantissime occasioni, palle sporche, se una o due o tre volte andate via in ciclo contro due. C'è mancato l'ultimo passaggio, un po' di freddezza, però io ho sempre detto che abbiamo Dubaric che non è in condizione ottimale, altri ragazzi che devono ancora arrivare. Però, come ho sempre detto, la squadra la vedo in allenamento. Fino a tre settimane fa io dicevo che c'erano giocatori che sono arrivati e non erano in condizione, adesso stanno arrivando in condizione e aumentano anche il livello dei nostri allenamenti. C'è più intensità e c'è un altro ritmo e poi lo si trasporta sul campo. Il calcio non bisogna inventarlo, le vittorie si ottengono con gli allenamenti duri che stiamo facendo e questo ancora, devo dire, un bravissimo questo ritmo perché mi stanno seguendo proprio alla lettera. Sì, questo Lausanna avrà un giorno in più, però a noi questa qua ci darà sicuramente quella motivazione in più e cercheremo di ricoprire quelle poche energie che sono rimaste. Però sono convinto che domenica assisteremo ancora un bellugano. Noi ce la metteremo tutta e tireremo fuori tutto il sangue che abbiamo ancora a disposizione e poi speriamo veramente di ottenere un'altra vittoria. Questa vittoria ci fa bene perché se guardiamo Lausanna che ha un potenziale, ha un'infrastruttura, ha un budget superiore al nostro. Lo stesso Winter Tour sono due punti, tre punti, per cui noi stiamo facendo dei miracoli e ancora complimenti a questi ragazzi e possiamo veramente sorridere questa sera perché è una bella serata e poi rimaniamo qua anche.